Belen e Stefano affittano una casa per il weekend, con piscina e Luna e Santiago si fanno il bagno. Piscina e Luna si fanno il bagno. Santiago disegna e papà Stefano ce lo mostra mentre Belen porta Luna in piscina ed è meravigliosa e questo è il primo bagnetto di Luna in piscina stupenda Grazie a tutti